Targhe alterne tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre in costiera Amalfitana. Il dispositivo anti-caos per l'anno 2024 sarà in vigore anche ogni sabato e domenica e nei festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre, così come delineato dall'ordinanza 340 del 2019 dall'ANAS. La circolazione stradale a targhe alterne sulla statale Amalfitana 163 sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 18 con queste modalità. Nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari. Nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con l'ultima cifra numerica pari. Fuori dalla fascia oraria, compresa tra le ore 10 e le 18, la possibilità di percorrere la statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata. Moto, scooter e veicoli a due ruote non sono interessati dall'ordinanza. Sono esclusi inoltre dal provvedimento di limitazione i residenti nei 14 comuni della costa da Amalfi, inclusa Gerola, i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H, purché presenti a bordo dello stesso, i taxi, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia, gli ospiti delle strutture alberghiere ed extraalberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l'arrivo e per la partenza, i lavoratori dipendenti non residenti in costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubblico-private situate nei 14 comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro ed infine i proprietari di abitazioni non residenti in costiera Amalfitana dietro all'attestazione dei comuni in cui si trova l'abitazione. L'ordinanza dovrebbe quindi dare respiro alla Divina Costa presa d'assalto durante il periodo estivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.